Se hai perso i dati dal tuo smartphone Android, comprese le chat di WhatsApp, gli SMS, i contatti, il registro e le chiamate, beh, hai trovato il video adatto a te. Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video, dove vedremo un software che ci tornerà molto utile quando dovremmo recuperare dei dati cancellati per errore dal nostro smartphone Android. Ma prima di andare a vedere questo whole data per Android prodotto da Tenorshare, che ognuno di noi dovrebbe avere, cari amici, solitamente supporto, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuna novità e commentate per farmi sapere le vostre opinioni. E ovviamente seguitemi su TikTok, dove offro contenuti molto interessanti in meno di un minuto. Se avete bisogno di assistenza in formatica gratuita o più semplicemente di un consiglio, scrivetemi poi su Instagram o tramite il mio canale Telegram di supporto. Aiuto veramente tutti, link sotto in descrizione. Ma basta chiacchiere e andiamo subito al sodo, nel caso in cui eliminiamo accidentalmente un messaggio, un contatto dal nostro smartphone, lo stiamo eliminando davvero? In realtà no, il sistema operativo, in questo caso Android, non fa nient'altro che contrassegnare come libero quello spazio dove in precedenza c'erano i nostri dati. Ma i dati, materialmente, ancora ci sono. Non li vediamo, cari amici, ma sono sempre lì. Quindi quando cancelliamo qualcosa, il tempismo è veramente tutto. Cosa molto importante, infatti, è non utilizzare le periferiche dove abbiamo cancellato i dati, perché il sistema operativo, sapendo che quello spazio è libero, potrebbe metterci altri file. E in questo caso si complicerebbe veramente tutto. Ma vediamo più da vicino questo Uldata per Android di TenoShare, che è disponibile sia per Windows che per Mac. Parlando un po' delle specifiche, innanzitutto recupera le foto, scansionando più di 1000 picture in pochi secondi, e supporta praticamente qualsiasi versione di Android, e tutto ciò senza che ci sia la necessità di effettuare il root del telefono. Possiamo poi recuperare chat allegati come foto, audio e documenti da WhatsApp, sempre senza l'ausilio del root. Ed è possibile ripestinare i dati praticamente un po' da tutte le situazioni, anche in caso di schermo rotto, provando con l'opzione recupera dati da Google Drive. Google Drive dal quale è possibile scaricare selettivamente i dati salvati come contatti, messaggi, cronologia delle chiamate. Ora cari amici, c'è a dire una cosa, se il vostro telefono si è rotto il display e non avete mai fatto il backup su Google Drive, questo software non penso che potrà aiutarvi, ma vi posso garantire che in tantissime situazioni è veramente una mano santa. Ora cari amici, per fare il test ho preso uno smartphone molto economico, anche per dare ancora più valenza a questo test, in modo tale da andare a simulare una situazione il più possibile simile alla realtà. E da questo smartphone ho cancellato un contatto alla rubrica, due chiamate e un SMS, e vedremo se saremo in grado di recuperarle. Quindi, cancellati i dati, che cosa facciamo? Andiamo sul sito di Tenorshare, il link lo trovate sotto in descrizione, facciamo clic su scarica gratis, quindi abbiamo l'installazione che avviene in pochi secondi, e all'avvio ci troveremo una interfaccia pulita, intuitiva, con un wizard che ci andrà a guidare. Selezioniamo recupera dati persi, e ci verrà mostrata la guida per abilitare le opzioni sviluppatore, che è un menu segreto e contiene diverse funzionalità. Quello che serve a noi è Debug USB, in pratica dobbiamo tappare sette volte sul versione build in informazioni del software, tappare vuol dire proprio premere. Quindi cari amici, diamo le autorizzazioni richieste dal nostro smartphone. Ora una piccola parola indesi, nel caso in cui doveste avere delle difficoltà, ho commentato, mi scrivete su Instagram o su Telegram, io cerco di aiutare veramente tutti. Una cosa che voglio dire sempre cari amici, perché spesso rido per gli insulti che ricevo, nel momento in cui io vi porto un contenuto, è un contenuto che ho testato io, che ho provato io e che funziona. Quindi quando lo provate, se c'è qualcosa che non va, scrivetemi, perché molto ma molto probabilmente, se c'è qualcosa che non funziona, la colpa, diciamo, non è né del software, né tantomeno delle informazioni che vi ho dato e poi per qualsiasi cosa, ovviamente, cari amici, io ci sono. Fatta questa piccola parentesi, diamo tutte quante le autorizzazioni richieste al nostro smartphone e ci comparirà una schermata dove potremmo selezionare la tipologia di dati che vogliamo recuperare. Facciamo questa operazione di filtraggio per rendere ancora più veloce l'operazione di ricerca. La turata dipende da diversi fattori, come velocità della periferica, dimensioni e sul filtro che abbiamo impostato in precedenza. Nel mio caso sono stati necessari un paio di minuti, c'è da dire che questo smartphone non aveva tantissimi dati, anche se c'erano più o meno 10 giga di foto che ho fatto nel momento in cui sono andato a testare questo prodotto. Al termine di questi pochi minuti potremo vedere quali file vengono recuperati, il nome, la tipologia, l'ultima modifica, oltre che un'anteprima sapendo in maniera del tutto gratuita per i amici se saremo in grado di recuperare un dato congellato e questo a mio avviso è una grandissima cosa perché noi facciamo il test con software, se non recupera niente non dobbiamo spendere niente. Fatto ciò, selezioniamo i file che vogliamo recuperare e facciamo clic su recupero. Ora per procedere dobbiamo acquistare una licenza, vi lascio il codice sconto sotto in descrizione, dove abbiamo tre opzioni, un mese, un anno o il più conveniente lifetime. Le funzionalità sono le medesime in tutte e tre le scelte a cambiare solo per quanto tempo possiamo andare a utilizzare il nostro software. Ricordiamoci che c'è anche l'assistenza tecnica gratuita sempre compresa. Acquistata la licenza, ricevute le credenziali via mail, le andiamo a inserire e registriamo il prodotto. Quindi ci verrà chiesto se vogliamo recuperare i dati copiandoli sul pc o direttamente sul nostro smartphone. Selezioniamo l'opzione che desideriamo e il gioco è fatto analogamente per Whatsapp. Facciamo clic su recupera dati di Whatsapp e il wizard ci invita a fare il backup di Whatsapp. Una volta fatto clicchiamo sul tasto avanti in verde in basso a destra e il nostro smartphone si andrà a riavviare. Il software infatti agisce sia sul pc che sullo smartphone. Fatto ciò Whatsapp si andrà a ripristinare. Quindi diamo tutte le utilizzazioni che ci compaiono e ci mostrerà quali chat e altri dati è riuscito a recuperare. In pratica per chi non lo sapesse Whatsapp ha dei backup locali che sono antecedenti potendo ripristinare una chat magari di diversi giorni prima. Quindi ricapitoliamo. Se cancelliamo dei dati accidentalmente dal nostro smartphone non dobbiamo usarlo perché i dati anche se non li visualizziamo più sono ancora presenti. Per recuperarli andiamo ad utilizzare il software che vi ho appena mostrato e gratuitamente saremo in grado di capire cosa è possibile recuperare. Poi se vogliamo procedere acquistiamo la licenza e andiamo cari amici a recuperare i nostri dati. Link e codice sconto cari amici li trovate sotto in descrizione. Quella è la lifetime per me e quella più conveniente. Ovviamente per qualsiasi cosa scrivetemi sotto nei commenti. Ho già provato un altro software di questa azienda. Software che ho provato sia in maniera empirica facendo un test da banco con una pennetta dove ho cancellato i dati e poi ho tentato di ripristino. Sia in una situazione cari amici più d'emergenza dove un caro amico aveva perso dei dati molto importanti dalla sua pennetta. Abbiamo utilizzato il software sia su Windows che su Mac e riuscendo a recuperare un file Excel veramente molto importante. Vi lascio il link sia qui sopra che sotto in descrizione quindi se magari avete una perdita di dati sul vostro pc su una pennetta su qualsiasi periferica tentare con quel software mi sembra una buona idea perché io ho avuto solo feedback positivi. Poi ripeto il recupero dei dati dipende da moltissimi fattori. Bene cari amici il mio video termina qui mi raccomando condividetelo noi ci vediamo in un prossimo contenuto come sempre con tante novità attivate. La campanella per non perdervelo un saluto dal mastro di YouTube che ora è anche su TikTok. Grazie a tutti!